Contrattualizzato, Dashi Kamada, giocatore giapponese classe 96, tra due giorni sarà anche il suo compleanno Clamorosamente d'utile, cioè questo è un giocatore che dove lo metti ti rende Un calciatore che si applica al 200%, parliamo di un giapponese quindi, questo, questo Di non possesso, si ricorda Cioè, molti notano questo Grazie a tutti 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 Contrattualizzato, Dashi Kamada, giocatore giapponese classe 96, tra due giorni sarà anche il suo compleanno Profilo di carattuale Grazie a tutti 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 pochi notano questo esatto in pochissimi tra l'altro negli ultimi mesi ha giocato anche come mediano al Francoforte accanto a So per varie esigenze quindi è un calciatore che ha giocato negli anni in tutti i ruoli mediano davanti alla difesa trequartista che poi è il suo ruolo il suo ruolo diciamo principale lui nasce trequartista ma ha giocato anche falso 9 se non sbaglio proprio nella finale di Europa League contro i Rangers quindi è un calciatore estremamente duttile che farà comodissimo alla Lazio giocherà lì perché giocherà lì giocherà in quel ruolo al posto di Milinkovic è sicuramente un giocatore diverso rispetto a Milinkovic però secondo me è molto più funzionale per il gioco di Sarri Sì, Grazie a tutti. e anche Intel con il home game 12月 17日. Perché questo scetterebbe? Il quattro di come, il quattro di Stato che stanno in cui stanno iniziando, in quanto riguarda il quattro di Stato. Il quattro di Stato, in questo caso, il quattro di Stato che non si non è, il quattro di Stato che stanno iniziando, Grazie a tutti. どうなるかわからないんですけど、スタートのフォーメーションが読めない状態であるし、あとボランチに関しても今カタルディしかいないので、彼で今シーズンスタートからスタメンで考えているのか、またはフランクフルトのボランチであるソー選手を獲得するのかというのがまだわからない。 もし獲得できなかった場合は、鎌田選手をボランチとして寄与する可能性はあるのでしょうか?皆さんはどのように思っていますか?この下のコメント欄に意見を教えていただければと思います。 では今回の動画はコメント欄ですが、いつも通りチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。毎日順に新しいコンテンツをアップロードしていますので、通知をオンにしていただければその新しいコンテンツを見逃すことはないです。